Buongiorno e bentrovati a Zoom sulla città. Il nostro appuntamento sulle iniziative del Comune oggi è dedicato ai temi della sicurezza e legalità. Ne parliamo con l'assessore Antonio De Jesu. Benvenuto. Grazie, grazie a lei. Nel weekend di Pasqua appena trascorso Napoli strapiena di turisti. Non sono mancati però episodi di violenza che hanno visto protagonisti giovani. Possiamo tracciare un bilancio sul fronte della sicurezza? Certo, è stato bellissimo vedere migliaia di turisti invadere la città positivamente. È una rinascita per Napoli, per le attività commerciali, per gli esercizi pubblici ed è un fatto veramente di grandi valori, di grande prospettiva. Il piano per la sicurezza è stato concordato con la Prefettura, con le altre forze di Polizia. L'attività della Polizia Municipale è stata intensa, è stata capillare e per questo ringrazio il Comandante e le donne e gli uomini della Polizia Municipale che stanno facendo un lavoro veramente egregio. La città è stata all'altezza delle aspettative? La città dovrebbe offrire più servizi per l'anno prossimo. Abbiamo un anno di tempo per migliorare le condizioni, alcuni parchi sono stati chiusi anche perché c'erano condizioni meteo non favoribili, ma abbiamo un orizzonte di un anno assolutamente per migliorare il pacchetto delle offerte, delle opportunità per i turisti. Movida è un tema sempre al centro dei dibattiti, da un lato ci sono i residenti che chiedono tranquillità e più sicurezza, soprattutto di notte. Dall'altro i gestori dei locali e i giovani che hanno le loro aspettative, come si inquadra in questo scenario l'ordinanza del Comune? Ho sempre detto che ci sono interessi confliggenti tra loro, c'è il diritto dei residenti a poter vivere in serenità, il riposo notturno, c'è l'egittivo interesse degli imprenditori di fare profitto, c'è la voglia dei giovani di aggregarsi, purtroppo in questa città abbiamo poche aree dedicate all'intrattenimento notturno. Oggi vede, i giovani hanno uno stile di vita, hanno dei comportamenti che sono molto legate all'uso e all'abuso dell'alcol, questo bisogna dirlo con grande consapevolezza. L'approccio non può essere solo quello repressivo, la sproporzione tra giovani e tra forze di polizia e polizia municipale sicuramente non è favorevole, né questi tipi di eventi criminosi possono essere preventivati, non è un'indagine di polizia giudiziaria, fate l'indagine su un clan, puoi capire quali sono le aree critiche su cui alcuni eventi si realizzano. A lei che idea si è fatto? Quale potrebbe essere una soluzione? Non ci sono formule magiche, c'è bisogno sicuramente di adeguare il controllo del territorio, perché la presenza e anche la percezione e la visibilità dei servizi, delle forze dell'ordine e della polizia municipale deve essere sempre più performante, consapevole che però non potrà mai garantire una copertura totale sull'intero territorio. Un tema sarà quello, l'assessore Amato lo sta affrontando insieme al sindaco con grande lungimiranza e la possibilità di estendere le aree della movida nella città, ma è un tema delicato, un tema che non può imporre. Bisogna fare uno sforzo sui sistemi di videosorveglianza e in questo c'è un tavolo in prefettura che punta a estendere e a completare un quadro esigenziale dei sistemi di videosorveglianza in alcune aree della città che oggi ne sono prive per migliorare la capacità di controllo del territorio, perché la videosorveglianza è un prezioso supporto all'attività investigativa ma anche alla prevenzione. Sulla gestione dei beni confiscati, quali sono le azioni che il Comune può mettere in campo? La gestione dei beni confiscati che rientra nella mia delega oggi è assurda a dignità di servizio, cosa che prima non c'era, per cui il servizio è una dirigente, ha una struttura di personale e si sta dedicando sia al monitoraggio dei beni confiscati per avere un quadro capillare esaustivo di ogni singolo bene e uno degli obiettivi che noi abbiamo è quello di verificare periodicamente la qualità di servizi che vengono offerti dalle associazioni che ne hanno la gestione. L'amministrazione ha promosso un'azione incisiva di ripristino della legalità sul territorio, se ne parla? Assolutamente, con la Polizia Municipale stiamo lavorando insieme anche alle forze di Polizia per rimuovere quegli elementi di illegalità sul territorio, senza condizionamenti di genere. Abbiamo cominciato un'attività di abbattimento di alcuni altarini che erano stati realizzati abusivamente, continuiamo a farlo sui murales e proprio sui murales noi abbiamo in prospettiva la possibilità di creare un regolamento, dobbiamo disciplinare i murales su immobili privati che sono prospicenti a Repubblica, qui ci stiamo impegnando oltre al regolamento di Polizia Urbana faremo anche un regolamento sui murales che miri a dare delle regole in questa città, perché devi dare delle regole, devi disciplinare e devi poi far rispettare le regole. Grazie, grazie Assessore per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito.